Il tuo consulente Agrometro ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto fino al 5 luglio. Protagonista l'africano il quale ha già scatenato un'ondata di caldo al centro, no. Ma vediamo gli sviluppi dell'evoluzione dell'anticiclone nordafricano che vedremo insisterà sull'Italia fino al 5 luglio. Bene, il 27-28 di giugno l'africano raggiunge la massima intensità, non si era mai visto alla fine di giugno un anticiclone nordafricano così robusto. Caldo intenso al centro nord, massimo superiore a 30 gradi su tutta l'Italia, ma valori diffusi di 37-38 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio. 33-35 gradi al sud e sulle isole maggiori, pochi valori di 40 gradi, per lo più limitati al settore nord-ovest della Sardegna e all'interno della Sardegna. Seconda fase, 29 giugno-1 luglio, l'africano si indebolisce appena il centro nord, ma si espande sulla regione meridionali. Valori massimi diffusi di 32-36 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, interno delle isole maggiori. 28-33 gradi sul resto dell'Italia. Terza fase, 2-5 luglio, l'africano abbandona con la sua parte più intensa al centro nord, invece si intensifica al sud. Temperature in calo al centro nord per correnti deboli di origine atlantica. Massime sul centro nord tra 30-34 gradi. 37-40 gradi invece su Puglia, Lucania, interno della Sicilia e interno della Sardegna. A termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliaci e dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.